Ciao a tutti, vediamo 5 frasi buddiste che cambieranno la tua vita. Su queste frasi ovviamente bisogna riflettere, bisogna meditare, però nel momento in cui le comprenderai profondamente avrai una profonda trasformazione nella tua vita, una trasformazione positiva. La prima frase è che il dolore è inevitabile, ma la sofferenza la decidi tu. Esiste una grande differenza tra dolore e sofferenza. Il dolore è un evento, la sofferenza è l'interpretazione di quell'evento. La fidanzata mi lascia, è un evento, può essere un evento doloroso, ma io andrò a soffrire in funzione di come interpreterò quell'evento. Se interpreto questo evento in modo positivo, potrei anche viverlo non come un dolore, ma viverlo addirittura come un piacere. E anche il dolore fisico. Pensate ad esempio ai martiri che provano dolore, ma in realtà vanno al rogo col sorriso sulle labbra perché interpretano, diciamo, la situazione come un'elevazione, ad esempio. Adesso non dico che dobbiamo andare al rogo, però per far capire che noi possiamo interpretare tutto come sofferenza oppure tutto come piacere. Possiamo interpretare tutto come bene o tutto come male. Possiamo interpretare tutto come positivo o tutto come negativo. Dipende soltanto da noi. Bisogna riflettere molto su questa frase perché riflettendo su questa frase possiamo veramente stravolgere la nostra vita. Un'altra cosa fondamentale, un'altra frase fondamentale, la seconda, è che non potrai sperimentare nulla di cui tu non abbia seminato le cause. Questa è l'essenza della legge del karma. Noi sperimentiamo ciò che noi stessi abbiamo creato, cioè noi siamo i creatori del nostro spazio-tempo, la nostra coscienza in un universo in cui tutto è possibile, noi tra questo tutto possibile andiamo a cogliere ciò che abbiamo seminato in qualche punto dello spazio-tempo, da un tempo senza inizio potremmo dire. Quindi se ti capita qualcosa che non ti piace, anziché lamentarti, inizia a crearti dei meriti per poter sperimentare cose diverse. Perché se inizi a seminare, diciamo, amore, magari lo raccoglierai anche. Se non hai mai seminato non potrai raccogliere. Quindi tutto in realtà dipende da noi. E non esiste un destino già scritto, diciamo così, che ci impedisce di poter fare le cose. Noi possiamo cambiare iniziando a piantare semi diversi. Questa è la cosa fondamentale, diciamo, che ci caratterizza come esseri senzienti. La terza frase sulla quale riflettere è che ognuno di noi ha la possibilità di abbandonare per sempre la sofferenza. Non è che il fatto di abbandonare la sofferenza è una prerogativa di un Buddha, una prerogativa di un illuminato, per cui si dice, vabbè, il dolore è inevitabile, la sofferenza dici tu, però io non sono un Buddha, per cui mi spiace, continuerò a vivermi la sofferenza e lasciamo che i Buddha non la vivano. No, dentro ognuno di noi c'è questa possibilità. Un Buddha è soltanto un essere senziente come noi, non è una divinità, cioè il Buddha non è che dice un qualcosa di sopra di me. È semplicemente un essere senziente che ha sviluppato al massimo potenziale, diciamo così, delle caratteristiche. Che poi queste caratteristiche sono fondamentalmente due, allora, l'amore, sia per se stessi che per gli altri, e una corretta visione della realtà. Corretta visione della realtà significa apprendere atto del fatto che tutto cambia, tutto si trasforma, tutto è impermanente, e che siamo tutti collegati, siamo tutti interdipendenti, ma proprio per il fatto che siamo tutti interdipendenti e per il fatto che tutto cambia, noi possiamo sperimentare quello che sperimenta il Buddha, e quindi possiamo uscire fuori da questo ciclo di sofferenze. Però dobbiamo volerlo e dobbiamo agire per questo, quindi non siamo mai, come dire, impantanati o bloccati, non c'è più niente da fare, non esiste. C'è sempre una possibilità e c'è sempre qualcosa da fare. E il quarto punto è che comunque vuoi essere felice, devi viverti il momento. Ogni momento devi viverlo come se fosse l'ultimo. In realtà noi non sappiamo quando moriremo, sappiamo che moriremo ma non sappiamo quando, e spesso perché soffriamo? Soffriamo perché abbiamo delle preoccupazioni che provengono dal passato, cioè per sofferenze vissute nel passato, che attualmente non sono più, come dire, presenti, ma continuiamo a viverle, e altre volte invece soffriamo per aspettative di sofferenza del futuro, che non sappiamo neanche se si manifesteranno o meno. E invece se noi riusciamo a, diciamo, eliminare queste trasposizioni dal passato verso il presente, dal futuro verso il presente, e ci limitiamo a vivere il presente, potremmo sperimentare veramente la felicità. Altrimenti sarà sempre un suo erogato di felicità. E per sperimentarla profondamente, però la felicità bisogna arrivare al quinto punto, che è quello che ti dice la frase, che se vuoi essere veramente felice, devi eliminare e trasformare i tuoi veleni mentali. I veleni mentali sono veleni che avvelenano la felicità, e sono essenzialmente, si parte dall'ignoranza, cioè ignorare la corretta visione della realtà, fondamentalmente. E da questo nasce l'egoismo, che è il generale, diciamo così, di tutti i veleni mentali, perché poi l'egoismo porta alla rabbia, porta all'arroganza, all'attaccamento, all'io e al mio fondamentalmente, credere che siamo delle monadi, diciamo, indissolubili e indistruttibili. Se riesci a fare questo, diciamo, cambierai veramente la tua vita in meglio, perché andrai a sperimentare il piacere e eliminare la sofferenza. Bene, per questo video è tutto, se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta, se il video ti è piaciuto metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!